Siamo arrivati a Giffoni, eccoci qua, l'antica pizzeria Le Russie. Vediamo cosa ci aspetta. Pizza tradizione gourmet, farina petra, lievito madre, lievitazione di 24 ore, primo piano. Si deve ingresso, la pizzeria è molto accogliente. Eccoci qua. Di ritorno da Viterbo, siamo all'antica pizzeria Le Russie a Giffoni Villaviana. Buonasera. Vediamo un'occhiata al menù, tra l'altro il nuovo menù ci ha detto Vincenza. Noi abbiamo scelto il giorno 1889, sono una margherita con bufala, data di nascita della pizza margherita a Napoli. E poi ci ho fatto consigliare una mia, con fior di latte, crema di broccoli, datterino giallo, guanciale, caceriota e tavola con base di ricotta. Questo è il nuovo menù della pizzeria Le Russie. Quindi eccoci qua con la mia, che è una broccoli, guanciale, datterino giallo e vediamo una caceriota. Pizza con lievito madre, farina di tipo 1, che è evitata 24 ore. Questa è il giugno 1889. Un appetito. Ultima pizza, la cedarese, con fior di latte, questa cedarese, scorzetta di limone, noce e fichi secchi del cilento. Lo chef ci ha consigliato un solo morso. Ragazzi, siamo qui all'antica pizzeria Le Russie. Il senso ci spiegherà la sua pizza a lievito madre. Allora ragazzi, buonasera. Questo è il lievito che io uso all'interno del mio impasto. Faccio un impasto con 24 ore di lievitazione e con lievito madre, 100%. Il mio lievito madre ha più di 12 anni che mi è stato donato. Ogni giorno lo rinfresco. Per farvi capire la forza che ha un lievito vivo. Lo rinfresco tutti i giorni con un fermento molto biologico. Miele di castagno biologico e marmellata di peri artigianali. Allora, siamo appena usciti dall'antica pizzeria Le Russie. Siamo completamente soddisfatti. Molto. I prodotti sono tutti di alta qualità e l'impasto veramente superlativo. Ve la consigliamo. Buona serata a tutti.